Il Festival dell'Educazione si è aperto oggi ad Arezzo nel campus universitario del Pionta con la proiezione e premiazione dei cortometraggi incentrati sul tema della diversità realizzati dagli studenti delle scuole superiori. Vincitori del concorso sul tema scelto dal Dipartimento dell'Università di Siena per questa prima edizione del festival sono stati gli studenti del Liceo Artistico di Cortona. Il nostro video che abbiamo realizzato con i ragazzi della prima C del Liceo Artistico di Cortona tratta il tema della diversità in modo molto simbolico. Insieme ai ragazzi abbiamo scritto questa sceneggiatura dove a parlare sono dei burattini tutti di legno e uno di pietra, diciamo che quello di pietra è un pochino denigrato dai altri poi non vi sveglio il finale se mai lo vedete, diciamo che le cose non vanno per il verso giusto e poi a spuntarla sarà appunto la diversità, me l'ho detto alla fine. Il festival prosegue adesso il 22 di marzo con la mostra permanente Migranti, la sfida dell'incontro a cura di Alessandra Convertini e una tavola rotonda sul tema dell'immigrazione e le politiche dell'accoglienza. Questo è un festival dell'educazione che vuole declinare l'educazione sotto vari punti di vista quindi tratteremo come abbiamo fatto oggi il tema della diversità in tutte le sue sfaccettature parleremo di migranti, parleremo di diritto all'inclusione, rifletteremo insieme agli studenti e agli operatori del territorio su quelle che sono per esempio le competenze professionali di chi lavora nei servizi all'inclusione. Sono due giorni di workshop attività a tavole rotonde durante i quali il tema della diversità e dell'inclusione viene affrontato attraverso voci che dialogano tra di loro.